Coldiretti ha deciso di partecipare al progetto APVER perché riteniamo fondamentale l'incontro con la scuola e con mondi diversi anche per capire da una parte, portare appunto i fabbisogni che hanno le aziende rispetto ai nuovi mestieri anche in agricoltura penso al tema dell'innovazione sociale in agricoltura, dell'innovazione tecnologica, dell'agricoltura di precisione e capire anche se con questo confronto è possibile convergere i profili professionali futuri rispetto appunto ai bisogni che le imprese esprimono.